Abbiamo visto che su 20 regioni in Italia, e l'Aes ci ha corretto che sono 22 i presidi in Italia, riusciamo a fare 22 per 5, 110 etichette che si riescono a sposare con la mozzarella di Bufala Campana. La nostra area formazione si è messa a disposizione con tutti i presidenti regionali proprio per abbinare le nostre eccellenze enologiche a questa grande eccellenza gastronomica italiana. Il Marsala, il Trento Doc nella versione Rosé, quindi spumanti di montagna, metodi Charmant, quindi tante realtà, ma anche delle originali versioni legate ad esempio al Moscato d'Asti. È stato appunto un lavoro grande fatto da un team dell'Aes di Caserta che ha riuscito a coordinare tutto, ma soprattutto con la collaborazione delle persone del Consorzio, che da dire le quinte abbiamo avuto modo di abbracciarci e portare avanti quello che è stato un lavoro che è durato più di un anno. Ospitare qui il Consorzio Tutelano delle Mozzarelle vuol dire anche aprirsi alla ricerca, alla sperimentazione e far sì che questo luogo di spessore nazionale diventi internazionale.